Ma c'è la festa di Cairati oggi? No, c'erano le borse di studio di Cairati, ma c'è la nostra studentessa. Ho capito. C'è la festa di Cairati. Wow! Ehi là là! Ma è tantissimo qui! C'è tantissimo! Oh, chi c'è qua? Grazie mille! Bene, bene! C'è tantissimo! Senti! Grazie! 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 se vi passo davanti che riuscura che riuscura grazie